ecco come si fanno i falafel 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 ma potento? no 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 Scusate, il nome è questo. In iranico. In iranico. No, no, no. Nome, nome, nome. Sì, il nome. Sì, il nome in Irano. Ok, lo so. Ma parlate inglese ora? No, ok. Sì, il nome in iranico. Sì, il nome è Magale. Magala. E questo? Nohul. Ok, ok. Grazie. Sucra, sucra. Grazie. Grazie a tutti. No, 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 no. Anita sta mettendo il chador perché dobbiamo visitare la musica. vai di là la signora la sta aiutando che mette il chador ok va a terra tira di su si si anche a damasco l'abbiamo messa muschil moschè allora gli stranieri pagano 50.000 rial e i e i cosi e i locali gli iraniani pagano solo mille rial questa è una delle cose assurde che ha l'iran dove fa pagare il doppio prezzo girati sempre di là la luce togli se buia grazie a tutti no problem no problem yes are you irania yes where shiraz ah shiraz ok ok thank you thank you bye hello how are you i'm fine how are you fine thanks where are you from italy italia ok 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 oh yeah yes yes very very viva iran ok 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 thank you allora questa signora abbiamo chiesto un'informazione questa signora ha preso per mano Anita e ci sta portando al ristorante secondo lei migliore qui a shiraz vede sono gentilissimi siamo qui nel centro dove c'è la moschea wakil e il bazar il grande bazar adesso vediamo dove andiamo dove andremo dove andremo dove ci porterà ok qui nel ristorante dobbiamo andare sotto siamo a shiraz oggi è il 20 il 20 marzo andiamo a mangiare sotto in sotterranea qui c'è un quadro o perbacco stavo cadendo ah vieni ecco vada guarda si chiama shards shards ah ok morning no sono loro thank you morning ok ok thank you siamo nel ristorante